Giornata di sport e spettacolo che ha attirato turisti ed appassionati. Si chiude così il campionato italiano di Beach Volley con le finali Under 21 maschili e femminili. Affari da cornice e lungomare Diamantea. I campi sportivi del Centro Federale hanno visto sfidarsi i migliori giocatori di tutta Italia in entrambe le categorie. Grandi protagonisti hanno dato spettacolo ad un pubblico gremito, il top del Beach Volley italiano tra presente e futuro. La categoria maschile ha visto salire sul gradino più alto del podio la coppia laziale formata da Canegallo e Casellato che ha dato filo da torcere alla coppia Cottafava-Malletti. Il terzo posto va alla coppia Fusco-Montanari. Per la femminile a trionfare la coppia Colse-Puccinelli che vista così il risultato dello scorso anno. Terzo posto invece per la coppia formata da Meniconi-Ottaviani. Ma a vincere su tutto l'organizzazione e la riuscita dell'evento con soddisfazione da parte dei promotori ASD Beach e Volley Amantea. Data la vasta partecipazione tra atleti, staff, sponsor e partecipanti, l'auspicio è che questo evento possa diventare un punto di forza per l'intera regione. Da Vibo Valencia per la Cinews24.